Musica Non trovi il cappello di paglia? Non trovi il cappello di paglia? Ti sto vloggando eh? Scusa, volevo prendere un cappello di paglia Grazie per il vlog Magari qualcuno che ci sta ascoltando sa dov'è il cappello di paglia Sì, o me ne regala uno Un appello ai gallici Un cappello ai gallici Regalatemi un cappello di paglia Alla Sanpei Alla Rapper E portatemi delle razze Ciao Gio Ciao Gio Chi sono quelli davanti a noi? Quelle sono le bestie Sono le bestie? Sono le bestie E non si lasceranno mai il campo? No Non ce l'hanno mai lasciato in vita loro Esatto Quindi non lo cominciarono di sicuro oggi Guarda lì Ciao Zazza Sei ancora in retargo da ieri sera? No Mi sto rilassando Relax Io sì Mi sto rilassando Ah ok Questa non lo sapevo Che gioco è amici? Questa è Scopa Quindi si può dire che stiamo scopando Lo sapevo Lo sapevano tutti quelli del vlog che stavano per arrivare Che bassità volgare Mamma mia Che bassità Scontata e volgare Mamma mia Facciamo che mi figlio è un belotto Ciao Gio Ciao Gio Ciao Gio Ahi sono Nino Che sono stiazato Ciao Gio E... Cosa? Birino Eh, tu sei sempre... Birino, birino Sei sempre in tutti i livelli Eh, scena due, rifatta Ciao Vai Ciao Guess Ciao Gio Ma che caramelle si comprano? Ma caramelle non so Le ha già prese lei Lei le sta prese in casa Andiamo Eh, la tua maglietta è qualcosa di epico Grazie Gallottiamo per questo complimento Live No, è live simple Live No, no, è live Non live del tipo concerto live Esatto, è live Con il carro Maggiore o minore? Maggiore Grandissimo Eh, io queste cose E' la spurtina Amici, ma qua dentro c'è un sacco di eco Proviamo a eccheggiare Ecco Uccia 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 C'è l'eco, c'è l'eco Humberto Oh, ecco, ecco Ah, ecco Sì sì, vogliamo sentire la feglia Ah, è vero, guarda No, si segna un cazzo! Magari lo spieghi con il faro. Ho delle tasche chiuse, cazzo. E' potente, ne? Se ho delle tasche chiuse, eh? No. Ma se offendi un parmigiano reggiano, ti pianta una grana? E' su questa a spegnare la luce. Allora, Zani, dica... Uno dei due lo sta facendo. Ma sedia immortale, perché ci hai lasciato due testamenti? Eh, questa no, dai, però... Tenitemi dietro. Io sto di lato. Allora, amici, anche oggi la giornata è giunta al termine. Blog molto rilassato, poco ricco di sostanza. Ma ormai cazzi vostri, perché siete arrivati alla fine. Tra l'altro sono le... Ma dai, mezzanotte e quaranta. Ecco, prestino. L'undici di settembre è un inside job. E cercate Operazione Northwood su YouTube. Hai detto davvero inside? Si, inside job. E... La terra è piatta. Assolutamente. Con questa bomba vi lasciamo. I dinosauri non sono mai esistiti. E con queste bombe io mi rifiuto di darla buonanotte. E... Poi? Loro si rifiutano. E... Buonanotte. E... E buonanotte. No. Buonanotte. 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 Non il naso, grazie. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.